Non c'è pace per gli impianti di risalita dei Prati di Tivo e Prato Selva, quando tutto sembrava finalmente andare verso la risoluzione delle problematiche è arrivato l'ennesimo colpo di scena. Il Tribunale di Teramo ha colto il ricorso presentato dall'ex gestore Marco Finori sul sequestro giudiziario del ramo d'azienda, di cui fanno parte delle strutture principali della Gran Sasso Teramano. Questo significa che Finori a pochi giorni dalla riconsegna delle chiavi da lui effettuata dopo un lungo tira e molla torna a custodire e a gestire gli impianti, questo in attesa del pronunciamento sul bando di vendita. Un fulmine a ciel sereno, così è stato definito dal presidente della provincia di Teramo Camillo D'Angelo che dal suo insediamento ha subito lavorato per trovare una quadra definitiva all'annosa problematica dei Prati. Sì, purtroppo un passo in negativo che non ci aspettavamo, neanche i legali si aspettavano, la sentenza del Tribunale che assegna Finori non solo il sequestro ma anche inaspettatamente la gestione degli impianti. Daremo seguito a questa sentenza, a questa emissione del decreto di sentenza del Tribunale chiedendo a Finori a questo punto di finalizzare l'acquisto e di prendere gli impianti come lo aveva proposto al prezzo che lui aveva offerto. Avevamo pensato di rifare un bando e quindi anche lo stesso Finori poteva acquistare gli impianti, non è che sarebbe stato escluso da questa nuova ricerca sul mercato. Adesso se il Tribunale ha deciso che lui è titolato a completare questo processo che aveva iniziato, questo faremo così come la legge ci ha imposto. A preoccupare ora è la riapertura degli impianti per l'imminente stagione estiva. La riapertura estiva c'è più di una problematica vista questa sentenza ma lunedì sera alle 17 ho convocato una riunione con i soci dove definiremo un idere programmatico che ci consentirà di stabilire quali saranno le scelte e soprattutto finalizzate alla tutela del territorio di Prato di Tivo e Prato Selva e quindi tutta l'area montana. Per l'ASBUC, l'amministrazione separata degli usi civici di Pietracamela, gestore dei terreni dove sorgono gli impianti, questa situazione potrebbe portare ad una battuta di arresto dell'iteravviato. Vediamo un attimino la situazione che si verrà a creare, noi comunque come titolari dei territori siamo pronti per quanto riguarda tutte le richieste del caso. Ovviamente la domanda che poi si fanno i cittadini, gli utenti, gli amanti della montagna è cosa succederà per quest'estate? Per quest'estate si potrebbe anche riaprire la cabinovia come ho sentito dire che è già pronta, in 15 giorni può essere riaperta, per cui per noi non ci sono problemi. Noi siamo in attesa appunto di rilasciare la documentazione dietro appunto il pagamento delle concessioni.